Buongiorno dal Tg della Mobilità, questa sera stop alle 21.30 per la ferrovia Romalido tra le stazioni di Acilia e Colombo. Riprendono infatti i lavori del fine settimana sui cavalcavia di via Chierchia e viale della Vittoria a Ostia e la linea Romalido fa spazio al cantiere. In alternativa ai treni è possibile utilizzare le linee bus 04, 06 e 070. Dopo le 23 anche la linea notturna NME Piazza Venezia, stazione Colombo. Le altre notizie. Inizierà lunedì prossimo l'intervento di manutenzione sui binari tramviari di viale delle milizie. Gli operai saranno a lavoro sul tratto da Piazza delle Cinque Giornate a via Barletta. Sino al 7 agosto i tram della linea 19 saranno sostituiti da navette bus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento. Deviate poi sei linee bus di giorno e altre quattro durante la notte. L'elenco in dettaglio sul sito muoversiaroma.it.